Qui mi sta dicendo, Guido, che comunque nelle altre zone, adesso siamo in un altro giro, come state vedendo, nelle altre zone ci sono delle zone, tipo questa, in cui si potrebbe, rimosse le macerie, messe in sicurezza i muri esterni, procedere anche a... E questo perché non è possibile, proprio perché non è stato fatto nessun piano, come dicevi tu, e conseguentemente non è essendo... Ecco, per esempio, inquadri per cortesia quella casa, cioè questa è una casa che sta per essere puntellata all'incirca, oggi, in questo momento, stanno lavorando, ma è chiaro che in una casa del genere sarà impossibile entrare per fare qualche tipo di attività. È logico, però non altrettanto in questa che abbiamo alle spalle. Facciamo vedere per cortesia. Perché questo palazzo che abbiamo alle spalle, che pur essendo in pieno centro storico è un palazzo di recente realizzazione, come dicevi, presenta soltanto delle lesioni nella cortina in schiena. Quindi questo è un palazzo che potrebbe essere completamente riabitato, a brevissimo, anche subito. Conseguentemente questa è una cosa che non viene fatta perché c'è una mancanza oggettiva di un piano che possa mettere nelle condizioni di potersi riappropriare del centro. Io ti parlo di mancanza oggettiva perché ti dico che nessun cittadino aquilano ne è a conoscenza. Poi, se nelle loro sedi private, la protezione civile o quant'altro, sanno già che magari fra 15 giorni qui si rientra, certo è che il cittadino non è. Allora, affrontiamo un altro argomento importante. La gente che abita in questa zona, chiamiamola rossa, che è la più devastata, dove ricordiamo che ci sono delle abitazioni di livello A, B e C, cioè nel senso che in questa zona ci sono molte abitazioni che potrebbero essere anche essere ristrutturate con poco e abitate. Benissimo, e nonostante tutto questo non avviene. Allora, mi è stato detto che all'incirca le persone interessate, che abitano in questa zona, in questa zona, in 15 mila, in questa zona, adificia. Bene, l'ottima con 15 attività. Le attività. Le attività. I residenti del centro sono 10 mila. Più le varie attività diciamo che sono 15 mila. Bene, queste 15 mila persone oggi dove sono? Dove sono? Dove vanno? Dove possono andare? Ma chiaramente, non è che riguardi soltanto questo, perché l'altro non è questo. Ci stiamo occupando di questo, adesso. Dove sono, te lo posso dire, perché al momento sono stati saluti in oro, entra alla costa o in una età di una siste nazione, nel senso che hanno la loro casetta al mare e sono chiamati lì. Dove andranno? Questa è la grande domanda che stavano tutti. E se gli era stato assicurato che alla fine di questo centro sarebbero rientrati tutti quanti all'anno? Apriamo un bel capitolo. Allora, era stato assicurato che alla fine di settembre sarebbero rientrati tutti all'Aquila. Un tetto per tutti. Bene, andiamo a vedere. Oh Luisa, come mai questi indumenti che tra un attimo saranno inquadrati non sono ancora stati recuperati dai proprietari? Vediamo, adesso inquadrameli, vieni qua vicino, inquadra. Qui abbiamo un armadio con degli indumenti e chiaramente li vediamo anche altri. Perché non sono ancora stati recuperati? Qui purtroppo fino all'ieri c'erano le macerie, come vedi c'è ancora una macchina completamente rosteggiata che è stata schiacciata da tutti. Conseguentemente non è soltanto l'impossibilità di poter andare nei posti perché sono pericolanti e anche perché dopo cinque mesi le macerie non erano ancora state rimosse. Mano a mano le stanno riportando.